C'è una bella sorpresa per voi, continuiamo con le grandi arie musicali, con atmosfere magiche e poi qui adesso ci sarà una piazza meravigliosa della folla straordinaria siamo in diretta da Napoli, piazza del Plebiscito con Gianfranco Agus e il maestro Bruno Venturini Michele, io abbraccio te, ovviamente Annalisa e Toto con grande affetto da una delle piazze più belle del mondo qui c'è il sole, è uscito il sole e c'è una grande festa, una grande festa popolare una festa che è praticamente la celebrazione dei 30 anni di carriera del maestro Bruno Venturini Venturini, esatto, benvenuto maestro Grazie, grazie E grazie mille di permetterci di festeggiare con lei questo grande successo in tutto il mondo Abbiamo in studio Annalisa Minetti e Toto Cotugno Amici miei carissimi Amici suoi carissimi a cui faremo questo grande omaggio Michele, ma attenzione perché avremo una grande sorpresa che ci hanno promesso nel corso di questo collegamento nessuno se lo aspetta, neanche noi ce lo aspettiamo ci auguriamo che sia, ma ve la posso quasi annunciare Maestro, 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo quando si va in un paese straniero? Le ha fatto tournée ovunque Io le voglio chiedere tre canzoni, una alla volta, che non si possono non eseguire La prima O sole mio O sole mio è l'emblema di questa città Il maestro Bruno Venturini La bella cosa è una giornata solo L'aria serena L'aria serena dopo una tempesta L'aria fresca pare già una festa Che bella cosa è una giornata solo O sole mio è l'emblema di questa città 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 L'aria serena buona sposati pochi attimi fa, Carmine e Francesca, sono usciti dalla cattedrale che è chiamata la cattedrale dei Borboni, siamo qui con alle spalle il Palazzo Reale e con l'emozione, allora, quanti anni hai? 28. Perché te la sei sposata? Perché l'amo troppo. Perché l'amo troppo. Allora, Francesca, quanti anni hai? 29. Perché te lo sei sposato? Perché l'amo troppo. Ti ha sposato praticamente, Agus. Allora, senti, una cosa che tu vorresti dire a Francesca quando non ti ascolta nessuno, siamo in Mondovisione, ci vedo in tutto il mondo, gliela dici davanti a noi? Grazie a Rai International, va bene. L'amo più della mia vita. L'ami più, ok. Allora, prima di farvi indicare una canzone, Francesca, non so se la tua sarà una dichiarazione come la sua, ma qualcosa che vuoi rivolgere al tuo Carmine. Ti stanno vedendo tutti. Ti amo. Viva! E noi con questi magnifici ragazzi, a cui auguriamo una meravigliosa vita insieme, perché è molto importante. Maestro, cosa vogliamo dedicare a loro? La più bella canzone d'amore, Torna a Surriento. E loro? Ce li portiamo in viaggio di nozze. Il maestro Venturini ancora auguri, Carmine ancora auguri Francesca. Torna a Surriento il maestro Bruno Venturini. Torna a Surriento il maestro 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 che non occorre non torna ma non me la so a non dorme sto durmiente torna sorriente non dorme sto durmiente torna sorriente Michele, Annalisa e Toto qui c'è un clima meraviglioso siamo in una delle città più belle del mondo loro due che sono gli sposi non sono soli hanno queste persone che se non le vado a inquadrare ci erano gli sposi eccoli sono suocere, fratelli, fotografi Michele, è tutto, è tutto allora, questo signore che non c'entra niente si è messo qua però, sei invitato, sei invitato allora, dove sono i suoceri? voglio i suoceri dove sono i suoceri? allora, i suoceri sono talmente emozionati che gli hanno detto che erano in diretta e non ci hanno creduto torniamo dal maestro Venturini ci ricordiamo che oggi è un giorno di festa ci sono tantissimi militari in giro per il mondo e noi dedichiamo a tutti quanti loro e alle loro famiglie che li stanno guardando ossurdato e innamorato Bruno Venturini Stai luntana da scopore e a te vola cominciere niente voglia, niente spera a tenere te sembra fianca a me si è sicuro, è questo amore con mi so sicuro e te oi vita, oi vita mia oi dora, è questo dora si è stata, o prima amore o prima è luta, ma sarà mai per me oi viva, oi vita mia oi dora, è questo dora si è stata, o prima amore o prima è luta, ma sarà mai per me mi so sicuro, ma sarà mai per me vai viva Michele il nostro Cutugno che è riuscito a far cantare anche quelli della vita mia eh, lo correva un po' dopo eh